Sono le 19 e un minuto e noi cari telespettatori siamo pronti per una nuova puntata di Primo Cittadino che questa sera accoglie il sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli. Benvenuto sindaco. Buonasera Simone e a tutti e tutti quelli che ci seguono su questi canali, sul canale di Fano TV e soprattutto un saluto a chi lavora dietro le quinte che non si vede tutte le volte. E sono tanti. Vi ricordo anche che potete intervenire in diretta telefonando lo 0721 86 14 33 potete inviarci anche un breve messaggio di testo al 338 49 68 250. Sindaco partiamo da una notizia che è abbastanza recente ovvero il suo passaggio da Italia Viva a Forza Italia una decisione che non è piaciuta al centro-sinistra, insomma ha scatenato qualche critica perché qualcuno non condivide il modo e il momento in cui è avvenuto. Ad esempio il consigliere Barbetta ha parlato di un comportamento scorretto nei confronti dei suoi elettori perciò Aramico li dovrebbe dimettersi. Intanto ricordiamo perché ha preso questa decisione e poi se si è confrontato anche con la maggioranza. Allora decisione che è presa, chiaramente è un po' di tempo che ci si stava pensando io insieme anche ad altre persone, mi vicino, alcuni collaboratori è una scelta che comunque noi eravamo già alcuni di noi in particolar modo come ricordato tu erano in Italia Viva e ho fatto una scelta che è una scelta comunque legata anche a possibilità future chiaramente qualcuno non sarà stato contento anche qualcuno di qualche partito, anche insomma abbastanza vicino però sono scelte che uno fa anche in funzione di tutto quello che può essere anche accaduto in tanti anni in cui comunque il sottoscritto insieme ad altre persone ha portato avanti tanti progetti e tante battaglie. Non è questa chiaramente la sede, il momento ma giustamente visto che hai portato all'attenzione questa notizia è giusto parlarne quindi è stata fatta una scelta, anche se poi oggi fondamentalmente il 90% di tutte le proposte politiche che fanno i partiti fondamentalmente si assomigliano. Ma è legato anche allo scenario politico nazionale? Sì, è cambiato tutto rispetto da qualche anno a questa parte, è molto liquido e soprattutto per quello che riguarda anche il contesto soprattutto comunale si votano i programmi, si votano le persone perché il sottoscritto anche se appunto ha cambiato partito continuerà a essere a guida di una lista civica come è sempre stata perché la nostra lista civica come tante altre contiene all'interno persone che hanno tanti tessere da partiti più disparate quindi non per questo uno non porta avanti un programma col quale si è presentato agli elettori e soprattutto anche a qualcuno che appunto ha dato alcuni titoli particolari legittimi, siamo in democrazia, si può fare tutto però ricordo che il sottoscritto, benché anche oggi è passato in un partito diverso continuerà a portare avanti tanti progetti tra quali uno che è quello dell'acquisizione dei beni abbandonati che qualcuno quando lo proposi a San Giorgio e poi a Terra Roveresche mi dava dello stalinista, dell'esproprio proletario e invece non è altro che mettere in pratica la Costituzione questo per dire che poi dopo ognuno di noi verrà valutato alla fine per quello che fa Ma è necessario secondo lei ridefinire anche gli equilibri o la situazione sotto controllo? La situazione degli equilibri, come ti dicevo prima noi nasciamo da una lista che all'interno ha tante anime sia quella della consigliatura precedente che questa quindi il programma va avanti, abbiamo un programma impegnativo da portare avanti insieme agli assessori e gli altri consiglieri comunali quindi questo è Un messaggio per lei Salve Antonio, tu e Claudio l'estate scorsa con il Palazzo di Montebello avete fatto una cosa incredibile in 40 anni, scrive il telespettatore, non avevo mai visto tanta gente purtroppo le persone che ora ti criticano guardano l'apparenza, il colore della casacca e non la sostanza ignorali, avanti così e sei forte Quello era un atto dovuto Diego, ce lo scrive Diego Quello del Palazzo di Montebello era un atto dovuto e abbiamo, anzi lo dico adesso perché tanto siamo qua l'11 di dicembre verranno presentati gli stucchi del Brandane in un convegno a Versailles quindi ha fatto un po' di strada A proposito di polemiche sindaco, visto che ci siamo ci sono state delle critiche inerenti all'adeguamento sismico perso mezzo milione, diceva, sosteneva qualcuno cerchiamo di capire che cosa è successo sostanzialmente l'ex sindaco di Piagge, Cionna per questi lavori aveva ottenuto un finanziamento per 500 mila euro poi che cosa è successo? Allora intanto ti ringrazio perché questo è un modo anche per chiarire il meglio era un finanziamento che aveva ottenuto destinato a riqualificare quell'immobile che ospitava le scuole elementari noi fin dalla prima consigliatura, quindi dal 2017 avevamo e abbiamo in mente un disegno di collocazione dei plessi nettamente diverso tra i quali appunto il fatto di portare le scuole primarie di San Giorgio e Piagge a San Giorgio mentre gli asili andranno a Piagge quindi quelle risorse che erano state intercettate per quello specifico intervento non servivano più anche perché quell'immobile lì non ospiterà più le scuole e diventerà poi, perché questo è il progetto che vedrà la luce insomma nel 2024 una specie di poliambulatorio che ospiterà la farmacia che ASET ci chiede più spazi perché chiaramente oggi la farmacia è un punto importante che può dare tanti servizi e in più ci sarà anche lo spazio per un tipo poliambulatorio quindi sarà la collocazione nuova e in più un altro problema che chiaramente qualcuno si è veduto bene da non sottolineare è quello che voi sapete viviamo in questi anni con un aumento prezzi per gli appalti pubblici importantissimo quindi quell'intervento che era un intervento di 500 mila euro era arrivato a più di 700 mila euro quindi significava che dovevamo investire ulteriori risorse per una struttura che poi non avrebbe più ospitato le scuole quindi era inutile e quindi non abbiamo utilizzato quel finanziamento tutto lì e quindi c'è stato questo debito maturato tra spese legali e interessi di 24 mila euro circa? no, quello è un altro però adesso facciamo con quella scuola di Piaggia era un percorso, quello lì invece viene da un intervento di San Giorgio che è terminato, dobbiamo fare i collaudi e poi apriremo questo nuovo plesso e lì con la ditta che ha fatto i lavori è una ditta non molto lontana da qua abbiamo avuto una serie di battibecchi di diatribe quindi poi ci siamo dilungati nei pagamenti eccetera anche perché alcuni lavori non erano stati fatti bene le conseguenze ci siamo opposti eccetera questa è una delle tante problematiche che accadono che molte volte anche se qualcuno non piace tanto a questa politica si può superare coinvolgendo veramente le ditte del posto perché chi sta sul territorio poi si bada bene da fare i lavori male perché poi chiaramente si trova le critiche tutte addosso guardiamo allora insieme le foto della costruzione della nuova scuola così il sindaco ci racconta insomma come stanno andando avanti i lavori quando termineranno se riusciamo a fare una previsione questa è un'altra scuola è quel famoso edificio che vi dicevo prima il Polo 06 di Piagge nuovo che andrà ad ospitare i bambini che frequentano oggi le scuole dell'infanzia di San Giorgio e di Piagge è un investimento di 2 milioni e 200 mila euro chiaramente a parte una piccola quota di 250 mila euro il resto è a fondo perduto con fondi che oggi sono transitati nel PNRR la struttura è una struttura che sarà chiaramente a norma spaziosa rispetto dell'ambiente perché chiaramente sarà dotata di pompe geotermiche e quant'altro e quindi ecco finalmente specialmente per il municipio di Piagge avremo un asilo che si può chiamare tale una struttura proprio a misura e in più la nostra idea è anche quella di attivare all'interno una sezione montessoriana perché chiaramente oggi uno è attrattivo se riesce a diversificare chiaramente i servizi che dà alle famiglie e ai cittadini in un anno o due potrebbero essere terminati allora voglio sbilanciare stiamo lavorando per poter aprirlo già il prossimo anno però su questo non mi sbilancio vediamo è sempre difficile a che punto siamo con alcune lavorazioni quindi poi saremo più precisi passiamo alla discarica perché anche lei come altri sindaci ha ricevuto il progetto presentato da Ferrogna per la gestione della discarica di Carafanito Barchi ha avuto modo di visionarli, di valutarli? allora più che glielo ho ricevuti di sicuro poi l'ho girata agli altri sindaci perché chiaramente noi siamo il comune che è il gestore della discarica premetto che questo è un intervento quindi la gestione del post-mortem che chiaramente spetta a noi perché spetta i proprietari della discarica e in particolar modo a terre roveresche abbiamo ricevuto, abbiamo cominciato ad analizzare e il primo di dicembre colgo l'occasione per dirlo a tutti ci sarà un'assemblea pubblica nella sala del Consiglio Comunale a Dorciano dove insieme alla cooperativa articolo 32 Comitato a difesa dei cittadini andremo appunto a illustrare quello che che cos'è quello che facciamo oggi per il post-mortem quello che ci è stato presentato perché chiaramente essendo una proposta di project financing dobbiamo rispondere e poi anche altri sviluppi futuri perché comunque questa è un'attività che noi dobbiamo fare punto e quindi non possiamo sottrarci chiaramente come tante volte ho detto questa è un'attività che dobbiamo portare avanti noi quindi non anche perché il project financing va valutato bene se effettivamente è conveniente o meno perché molte volte capita che sia che è conveniente per chi lo propone invece qui deve essere conveniente per il comune e per i cittadini però adesso non scopriamo le carte ma il primo dicembre riusciremo a fare un'analisi molto più approfondita invece sul biodigestore stiamo vedendo adesso qualche qualche immagine sì questa è la manifestazione insomma di quest'anno non dell'anno scorso esatto e sul biodigestore lo stato dell'arte è questo c'è un ricorso c'è un appello al consiglio di stato pendente proposto sia dal comune che dal comitato verso la sentenza del TAR poi c'è un ricorso contro la proroga che la provincia ha concesso di un anno per l'inizio dei lavori che sarà discussa dal TAR quando il TAR riterrà opportuno in base al loro calendario e poi c'è un altro ricorso al TAR sempre fatto nei confronti del comune sul quale chiaramente noi ci difenderemo perché in tutta questa procedura se dovesse qualcuno provare a costruire comunque noi abbiamo chiesto il pagamento di quelle somme che sono dovute che sono gli oneri di urbanizzazione che si chiama contributo straordinario in questo caso chiaramente loro si sono opposti e quindi anche lì c'è un ricorso al TAR quindi lo stato dell'arte è oggi questo qua una vicenda ancora complicata è lunga come tutte le cose che avvengono in Italia lunghe, faraginose, complesse alcune volte non ecco vedete chi vede in televisione vede le foto la zona è abbastanza imperghe diciamo così con un'infrastruttura viare che chiaramente non è idonea e consona a permettere la prima cosa che può venire in mente il passaggio di tutti questi mezzi però il percorso c'è e quindi cercheremo di arrivare in fondo nel miglior modo possibile chiaramente per quelli che sono gli interessi dei nostri cittadini e delle nostre comunità Cambiamo argomento perché nelle scorse settimane Orciano la regione ha presentato l'ultimo bando inerente alla sicurezza stradale quindi alla viabilità anche nel vostro comune insomma si stanno realizzando diversi interventi altri sono in progetto pensiamo ad esempio alle due rotatori Sì, quello presentato l'ultima volta dall'assessore Baldelli è il terzo bando sul quale siamo entrati anche noi che andrà a finanziare una lunga serie di marciapiedi che faremo tra San Giorgio e Orciano principalmente e quello che vedete è la rotatoria di Piagge che è conclusa uguale che qui è finanziata per 100.000 euro dalla regione Marche e poi abbiamo l'altro cantiere che vedrà la luce il prossimo anno che riguarda invece la realizzazione di una rotatoria ad Orciano nell'incrocio tra la statale tra SP orcianese e la mondaviese quindi anche lì è importante perché la rotatoria prima di tutto serve a dare sicurezza dove punti che abbiamo poi dovremo realizzarne anche altre nel futuro però facciamo un passo alla volta e poi riesce anche a dare un'opera dal red urbano e di abbellimento che chiaramente serve ed è importante Le tempistiche per la seconda? La seconda è che se tutto fila liscio dovremo ecco per il prossimo anno verso gennaio iniziare quindi puoi continuare sono lavori abbastanza veloci Invece per asfaltature se ne riparla eventualmente nella prossima primavera? ci stiamo programmando per primavera quindi abbiamo diversi punti sul quale intervenire che ci sono stati segnalati dai nostri cittadini continuano in questi giorni sempre i soliti lavori che facciamo lungo le strade bianche perché noi abbiamo 250 km di strade quindi un'infrastruttura importante e quindi ecco quello serve sempre perché le strade a posto è il primo biglietto da visita che uno dà al turista che viene perché poi anche lì si parla di sicurezza poi sicurezza bellezza decoro perché poi se non abbiamo le strade a posto serve poco a mettere le stazioni con le bike da noleggiare o altre infrastrutture che facciamo quindi questo sì abbiamo ancora altri argomenti da trattare ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo in diretta siamo di nuovo in diretta con il sindaco di terre roveresca Antonio Sebastianelli sindaco io partirei subito da una foto che chiedo alla regia di mandarmi eccolo qua il castagno è il nostro castagno che ahimè abbiamo dovuto fare questo intervento così drastico perché a seguito del forte evento di qualche settimana fa si è inclinato in maniera vistosa perché chiaramente dovete tutti sapere che quella è una pianta che ha quasi 300 anni e più o meno come dicono i botanici è la quasi il massimo di quello che può vivere un ippocastano quindi è diventato anche pericoloso no soprattutto pericoloso perché poi prima di fare l'intervento il giorno dopo la sera abbiamo dovuto sgombrare la casa che vedete lì davanti in foto e quindi chiudere la strada quindi è stato un intervento importante adesso è in sicurezza che dire la speranza è che a primavera possa fare dei germogli però non lo so quello che dovremo sicuramente fare è piantarne un altro aspettiamo allora atteniamo per questo adesso invece le leggo un altro messaggio buonasera sindaco la strada che porta alle frazioni Rupoli Montebello in particolare a ridosso delle curve ha bisogno di una pulizia d'aerbacce che stringono la strada la strada è molto trafficata lo farà per Natale poi chiediamo anche di chiudere qualche buca sì adesso ci mettiamo le mani l'erba quest'anno con la stagione chiaramente cresce a dismisura però è corretta e quindi passeremo per mantenere quella che è la sicurezza che serve si quella è stata molto trafficata perché collega Orciano con Schieppe che tutti conosciamo anche Terre Roveresche dopo Gradara ha presentato una moneta virtuale Ethics ci può spiegare sindaco in che cosa consiste e qual è il suo obiettivo allora l'obiettivo perché già noi nel passato avevamo iniziato in questo percorso con quello che si chiamava Lavignum chiaramente Ethics è un circuito chiaramente nazionale perché chiaramente sono già attivi a Roma e permette chiaramente se ci sono un certo numero di persone che aderiscono persone intesi come negozi locali permettono al cittadino che va a acquistare questi beni di avere un aumento del potere d'acquisto ecco questo è un meccanismo particolare che si instaura però nella misura in cui ci sono posti in cui spenderli adesso faccio un paragone che è molto semplicistico chiaramente è un po' come i punti del Conad uno prende i punti poi quei punti ci prendi la padella o qualche altro chiaramente qui il meccanismo è più complesso però il funzionamento va sempre in quella direzione quindi cerca di aiutare perché chiaramente oggi sappiamo che è un momento particolare aumentano i prezzi dappertutto quindi questo aiuterebbe solo che funziona nella misura in cui le attività l'aderiscono adesso noi per il prossimo anno cercheremo anche di dare degli stimoli a far sì che le aziende possono aderire in maniera tale che poi c'è la ricaduta sul cittadino che aderisci perché per il cittadino fondamentalmente è a costo zero mentre per le attività che si si iscrivono al costo una tanto di 300 euro sono cifre chiaramente abbordabili però bisogna sempre metterle in un contesto e cercare di sviluppare questa cosa il 9 novembre la presentazione e poi farete altri incontri il prossimo anno allora la presentazione ne faremo altri ma già da adesso è aperto il giovedì uno sportello in comune chi vuole liberi cittadini o aziende o negozi possono andare chiedere informazioni eccetera a proposito di sportelli sindaco è vero che state lavorando anche a quello dedicato alla violenza sulle donne sì stiamo grazie alle nostre donne la donna dell'amministrazione ma anche di tante associazioni di volontariato del comune di Terroveresche che hanno in questi due giorni passati 24 e 25 anche insieme alle scuole organizzato un numero di eventi importanti per sensibilizzare su questo tema il comune sta lavorando appunto su questo progetto perché chiaramente questa tematica non è solo il 25 il 24 il 26 è sempre tutto l'anno e soprattutto quello che ho detto anche quella sera è che dobbiamo tutti insieme parlare perché molte volte noi conosciamo di casi anche vicino a noi ma nessuno parla perché non si vuole impicciare non vuole lagni non vuole rugni e quindi ecco è importante parlare e soprattutto fare attenzione a quella che è la vita di tutti i giorni dobbiamo chiaramente ogni istituzione al suo ruolo le sue peculiarità al suo livello però spingere sul fatto che alcune norme non funzionano fondamentalmente sempre dopo perché poi dopo è successo a Fano adesso prima c'era Giulia quello è l'iceberg anche se Fano dobbiamo dirlo era un caso molto diverso rispetto al un caso molto diverso perché appunto si femminicidi omicidi eccetera sempre tragico è però è sempre la punta dell'iceberg che vediamo tutto il resto che è sommerso non lo vediamo tutto quello che manca a monte ed è brutto qualche volta capita perché chi conosce le situazioni che si trova anche in tribunale perché le persone le violenze esistono di varia non c'è solo quando uno uccide ma c'è quella psicologica economica e di diversa natura e allora lì quando uno va anche in tribunale e sente dire perché c'è qualcuno che appunto fidanzati ex compagni li seguono in continuazione anche con investigatori privati eccetera ma io non posso fare niente quello è l'inizio e poi dopo alla fine si arriva sempre all'escalation quindi su quello bisogna intervenire dare strumenti efficaci perché se no è tutto inutile quindi quello che volete fare con questo sportello lo sportello è un aiuto perché chiaramente poi le norme vanno cambiate e vanno rese efficaci perché se no altrimenti questo è un problema e soprattutto violenza sulle donne ma anche in altri contesti chissà deve parlare deve segnalare anche in altri contesti più frivoli e questa è importante collaborazione di tutti forse si riuscirà veramente a superare questa cosa e soprattutto investire sulla famiglia sì la scuola è chiaro ma se non si parte dalla famiglia perché i figli poi lo sa molto bene e poi abbiamo tante altre attività che abbiamo fatto parlo io anche in queste ultime sì 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 è chiaro per l'occasione della giornata del 25 di novembre ma non solo abbiamo 24 e 25 sì ma precedentemente abbiamo fatto anche altri eventi per i nostri gli amici a quattro zampe dove con l'EMPA abbiamo organizzato un corso dove appunto si parlava di animali come vanno tenuti eccetera quindi anche qui la sensibilizzazione perché sono tutte problematiche che impegnano i sindaci veramente quindi le colonie feline il problema dei felini della sterilizzazione eccetera quindi messi insieme perché poi oggi il problema è che il comune è rimasto l'ultimo baluardo è sempre così i carabinieri erano sono sempre di meno anche se noi abbiamo fortuna di avere uno spazio accogliente ma il numero non c'è e quindi poi dopo dai e dai avremo delle problematiche in futuro è importante anche gli anziani lei aveva rilanciato questa richiesta alla regione per ottenere un'autorizzazione per il centro di urno visto il piano sociosanitario eppure l'abbiamo rilanciato tutti insieme con forza insieme al parroco Don Mirco che è il proprietario dello spazio che dovrebbe ospitare insieme alla fondazione articolo 32 e la cooperativa articolo 32 e la parrocchia anche appunto Don Mirco è la struttura della parrocchia e al momento siamo in attesa il mercoledì insomma fra due giorni ho un appuntamento in regione vediamo se si riesce a sbloccare questa situazione perché è assurdo avere una struttura non poterla aprire perché fondamentalmente noi non chiediamo risorse alla regione per gestirla noi chiediamo solo l'autorizzazione a poterla aprire è una struttura importante darebbe vita e comunque creerebbe posti di lavoro in tutto il territorio anche a San Bartolo eccetera e servizi soprattutto servizi che poi noi in altri contesti li diamo sempre grazie all'associazione di volontariato come l'articolo 32 abbiamo il poliambulatorio Carlo Amodio a Fornace a Dorciano e lì pieno medici infermieri quindi le persone vi invito ad usarlo perché lì c'è stabilmente un infermiere messo dalla cooperativa che può aiutare in tante attività e soprattutto nella gestione perché poi questa è una tematica che prenderà sempre più forza invece per il lago Bergamo a Barchi l'autorizzazione è arrivata finalmente quella con un grande lavoro del comune ma anche io lo ringrazio perché chiaramente ci ha aiutato in questo percorso dall'assessore Aguzzi perché dipende dal suo assessorato dopo nove mesi quasi circa siamo riusciti ad avere l'autorizzazione quindi insomma a breve ma il prossimo anno inizierà la prima fase che è il disboscamento e poi la seconda fase dove dobbiamo ripristinare lo sbarramento e quindi poi ripristinare il lago che era un lago di sette ettari conosciuto dappertutto costo complessivo? il costo complessivo dell'opera per il ripristino sono 750 mila euro di cui insomma una bella parte la metteremo noi riusciremo anche ad attingere qualche contributo per una parte quindi ecco ma è un'opera che è necessaria e soprattutto i barchesi che la conoscono io no perché ero piccolo l'ho visto solo nelle foto ma chi conosce insomma la comunità di barchi e oggi terravereschi si merita di riavere questo lago anche valore storico identitario insomma del luogo invece per il 2023 avete confermato questo aiuto queste borse di studio per i studenti meritevoli e a giorni la scadenza a giorni venerdì scadranno quindi poi faremo subito la graduatoria prepareremo gli assegni da dare ai nostri ragazzi più bravi e poi come era previsto stiamo lavorando anche su altre forme di incentivazione per i nostri ragazzi che insomma sono bravi a scuola o all'università in questi contesti perché è giusto premiarli e aiutarli chiaramente questo è un piccolo aiuto perché poi non è che questo cambia la vita l'assegno del comune però è giusto un riconoscimento che è doveroso dare prima di parlare di eventi sindaco siamo quasi in chiusura alcuni cittadini le chiedono quando verrà sistemato il centro storico di Orciano perché è abbandonato il centro storico di Orciano l'abbiamo abbiamo ereditato insomma una situazione che era è tuttora abbastanza delicata perché è necessario ripristinare e fare tutto quello che sono i giardini esterni con le pavimentazioni e poi anche le mura una parte almeno ha necessità di un intervento veramente significativo il progetto del ripristino del centro storico è già stato fatto e adesso il prossimo anno vedremo abbiamo ci siamo candidati a diversi bandi per poter avere anche insieme ad altri comuni insieme a Fossombrone ad altri vedremo se non va in una direzione dovremo provvedere diversamente casomai a Stralci però dobbiamo quantomeno iniziare bene allora parliamo adesso degli eventi natalizi quando accenderete l'alber? sono tanti il problema è che a terra non è come fanno non è che ne accendiamo uno se ne accendono tanti comunque quello che posso dire è che inizieremo il 2 dicembre quindi sabato prossimo siamo già in ritardo rispetto agli altri perché io penso che il prossimo anno accenderemo l'albero a Ferragosto da qualche parte passatemi la battuta diceva inizieremo il 2 dicembre al Lago delle Rose appunto vicino a quel lago che dovremo rifare dove l'associazione si fuoristrada da qualche anno fa questo spettacolo bellissimo perché siamo in mezzo alla natura proprio suggestivo ricordo le immagini dello scorso anno in mezzo alla natura quindi il 2 dicembre si parte alle 4 e mezza dalla piazza del municipio a Barchi piazza Vittoria Emanuele quindi si va giù al lago e poi seguiranno in tutti gli altri municipi e il programma è abbastanza pieno fino al prossimo anno all'Epifania dove appunto le associazioni si sono date tanto da fare per poter animare quello che è il Natale di un comune come il nostro la corsa di Babi Natale? c'è anche quella quella ormai è un appuntamento da Barchi a Piaggi torna tradizionalmente e quindi con il solito cavallo con la slitta davanti e quindi più che una corsa è una camminata anche veloce però è un bello spettacolo suggestivo questo serpentone rosso di tutti questi Babi Natali in 300 circa per cui vediamo se quest'anno si riuscirà a raggiungere se quest'anno saranno anche di più speriamo e quindi ecco vi invito tutti a Terra Rovereschi specialmente quel giorno rispondiamo all'ultima domanda che ci è arrivata Sindaco abbiamo ancora un pochissimo tempo che fine ha fatto il progetto di un bus che passa anche nelle frazioni? al progetto del bus stiamo definendo gli ultimi passaggi perché soprattutto per quello che riguarda la prenotazione di questo importante strumento che permetterebbe di collegare non solo le frazioni ma anche potenziare quello che può essere il collegamento verso i poli dove c'è una maggior frequenza dei mezzi del trasporto pubblico locale quindi penso da Virginietto San Bartolo a Tavernelle e chiaramente dall'altra parte invece verso Villanova eccetera quindi ecco abbiamo avuto un incontro con una ditta una start up per poter appunto mettere e definire gli ultimi dettagli perché poi la navetta non è un problema metterla quello che invece potrebbe darci un po' più insomma lavoro da fare è trovare un sistema dinamico veloce funzionale che permette di prenotarlo perché alla fine la navetta che passa è un po' come un taxi però con i costi di una navetta quindi però questo è un pallino e soprattutto permetterebbe appunto di dare un servizio perché poi nel nostro comune siccome un po' tutti i comuni d'Italia ma specialmente il nostro quelli un po' più periferici abbiamo anche il problema delle badanti che devono andare a casa dagli anziani perché molte non hanno la macchina e quindi bisogna metterle in condizione di potersi muovere agevolmente quindi anche questo è un problema che dobbiamo risolvere Sindaco grazie per questi aggiornamenti e per essere stato con noi grazie a voi della possibilità di essere qua e di parlare a tutti quelli che ci seguono ha citato all'inizio della puntata le persone che lavorano nel backstage nella nostra regia Riccardo Sore e Cristiana Guerra grazie per averci seguito e noi ci rivediamo alle 20 e 30 per il nostro telegiornale a tra poco Grazie a tutti